Mario Perricone, lei è il presidente dell'ISDA, che cos'è l'ISDA? L'ISDA è un'agenzia didattica subacquea, l'ISDA sta per International Scuba Diving Academy, cioè un'accademia per istruttori subacquei che forma subacquei in tutto il mondo, rilascia certificazioni, brevetti sub, quindi dà la possibilità a chi vuole imparare di, seguendo dei programmi didattici specifici, riuscire ad andare sott'acqua con un brevetto certificato. Uno dei programmi dell'ISDA è il Parasub, ci spiega in che cosa consiste? All'interno dell'ISDA ci sono tanti programmi didattici, programmi tecnici, programmi per bambini, programmi per adulti, programmi per normodotati e programmi per disabili. Il Parasub, un po' come le Paraolimpiadi, è un programma che permette anche ai diversamente abili, di qualunque sia la diversità, non vedenti, amputati, paraplegici, di poter andare sott'acqua a godere del mare, perché uno dei nostri motti, del motti dell'ISDA, One World, c'è un unico mondo, mare, acqua, terra, ma il mare è per tutti, quindi anche per i subacquei disabili il mare è una realtà concreta. Di recente è stato inaugurato un nuovo percorso subacqueo per non vedenti, ce ne può parlare? Come dicevo prima, all'interno del Parasub ci sono diverse branche di diversità, quindi si può andare sott'acqua sia che si sia minorati fisici, sia che si sia non udenti, sia che non si abbia una gamba, sia che si sia non vedenti. Ecco, quelli che sono i più numerosi attualmente, comunque quelli che godono proprio di più dell'immersione subacquea, sono proprio i non vedenti. I non vedenti, contrariamente agli altri che potrebbero vedere il fondale subacqueo su un documentario, non lo possono vedere, lo possono soltanto sentire se ci vanno sotto e se ci vanno dentro davvero in prima persona. I non vedenti usano le mani per guardare e quindi quando li portiamo sott'acqua a toccare tutta una serie di cose che nella vita di tutti i giorni non hanno mai toccato, per loro è un'esperienza nuova, meravigliosa. Possono volare sott'acqua perché non hanno peso e quindi non hanno il problema dello scalino, non hanno il problema di poter scivolare, di non mettere correttamente il piede, è proprio un mondo per loro assolutamente particolare, diverso ed entusiasmante. E quindi noi abbiamo creato il primo percorso, il siciliano, per non vedenti, dove seguendo una linea guida il subacqueo riesce, che è poi una cima guida, il non subacqueo riesce a percorrere tutta una serie di step dove riesce a trovare dei reperti, degli oggetti, di qualcosa da toccare che sia ovviamente per loro motivo di divertimento, quindi troveranno il falso corallo, troveranno le pinne nobilis che sono delle conchie bivalvi, troveranno degli anemoni, piuttosto che per fortuna a Capogallo che è la zona dove è stato messo il percorso, trovano anche anfore, trovano anche ancore, quindi tutta una serie di attività che possono fare che ovviamente gli rende l'immersione molto più entusiasmante. Quanto è lungo il percorso per non vedenti? Questa è un'altra caratteristica, questo percorso è lungo 400 metri, a oggi è il più lungo d'Italia, tra l'altro perché normalmente i percorsi sono lunghi 150, 200 metri, questo da 400 tra l'altro abbiamo idea di raddoppiarlo, vogliamo farlo diventare da 800 su doppio percorso, ma è un'idea per il futuro, per adesso lungo questi 400 metri di percorso siamo riusciti a realizzare una cosa molto importante, siccome ci sono moltissime indicazioni braille che ci dicono a che profondità ci troviamo, quanti metri di percorso stiamo facendo, quali oggetti stiamo toccando, i non vedenti riescono, normalmente il non vedente deve sempre camminare anche se c'è la linea guida assolutamente in coppia con l'accompagnatore, qui l'accompagnatore c'è sempre ma i non vedenti riescono ad avere un'autonomia tale da potersi staccare dall'accompagnatore che comunque gli rimane vicino ma a seguire autonomamente la scima guida è da andare a trovare autonomamente i cartelli del percorso e gli oggetti indicati dai cartelli. Dunque chi fosse interessato dove deve andare e a chi si deve rivolgere? Beh sicuramente in Italia in genere basta che si rivolga a un centro ISDA ma in particolare per questo percorso, per fruire di questo percorso può rivolgersi al Diving Center Orca di Palermo a Mondello, all'antico stabilimento balneare, è stato all'Orca a montare questo percorso nell'area marina protetta di Capogallo, infatti solo grazie all'intervento dell'ammiraglio pace che ci ha permesso di montare il percorso nella zona B dell'area marina protetta di Capogallo abbiamo potuto creare questa bella iniziativa perché se l'avessimo messo in un punto dove non un'area protetta dove è vietato ancorare come Capogallo ma se l'avessimo messo in un punto dove poteva avvicinarsi chiunque buttare l'ancora il percorso sarebbe durato molto poco perché giustamente sarebbe rimasta qualche ancora impigliata nella cima, avrebbero strappato tutto, invece la necessità di poter stare dentro l'area marina protetta era proprio dovuta a questo rischio.